Con l'origine del creato, Dio dà vita anche al suo esercito celeste. Il principe di tutti gli angeli è l'arcangelo lucibello. Miserete fedeli! Fino all'eternità! Ribelli! 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 Cos'è questo linguaggio non d'angelo? Tu ragioni contro Dio. Mentre a capo dell'esercito c'è un soldato, l'arcangelo Michele. Scacciamo i ribelli dal paradiso! All'inferno Lucifero! All'inferno! All'inferno! Ma la creazione degli spiriti non è ancora terminata. Il mistero deve essere ancora sperato.